E' ufficiale, Odoardo Focherini sarà beatificato. È di questi giorni la notizia diffusa dal bollettino quotidiano della Santa Sede, che Benedetto XVI ha autorizzato la Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il martirio in odium fidei del servo di Dio Carpigiano, Odoardo Focherini. Si tratta, commenta il Vescovo di un grande evento, sorgente di grazie e di consolazione per la nostra Chiesa locale. Il nuovo Beato è segno indiscusso della fecondità della nostra Chiesa locale, ma è anche un forte richiamo a non lasciare inaridire le radici e a ritornare ad una testimonianza coerente, chiara, coraggiosa ed ecclesiale della nostra adesione a Cristo. Infatti, quanti più sono i doni, tanto più cresce la responsabilità e tanto più verrà chiesto. E' stata l'ultima fatica di Don Claudio Pontiroli, conclude Monsignor Cavina, che ora più vicino al servo di Dio partecipa alla nostra gioia ed insieme intercedono per noi. Dopo la pubblicazione del decreto sull'osservatore romano, la diocesi di Carpi dovrà prendere contatto con la Segreteria di Stato e la Congregazione delle Cause dei Santi per fissare la data e il luogo della beatificazione.